Io voglio stare dietro, col fucile Vado? Sei pronto? Porca miseria, Steph! Oggi sarà dura, Fer, eh, io te lo dico così subito secco, ma oggi sarà dura Allora, il nostro piano è questo, l'abbiamo visto nel musica foto Oh mio Dio, questa roba va provata L'avevamo fatta con i carrelli Quindi è prevalentemente la stessa cosa, però secondo me sarà molto più figo Praticamente, rampa altissima, altezza massima Andiamo con la macchinetta e scendiamo a massima velocità Discesa rapida al massimo Discesa rapida al massimo Però se ci pensate va molto più veloce come veicolo E quindi tendenzialmente dovremmo diventare dei fulmini E morire Quello è l'obiettivo Allora, la cosa difficile, come sempre, qual è? Andare a rubare un veicolo alle Zilinx Quindi sarà abbastanza giudizante Fer, è ancora Borgo Bislacco per te? Ok, non l'hanno ancora cambiato Non l'hanno ancora cambiato, mi fa piacere Non mi interessa della traduzione in italiano, ma chi se ne frega Ma chi se ne frega? E dicevo, andiamo prima lì Dopodiché, vediamo un attimino dove chiude la zona Il primo cerchio Ci cerchiamo del posto proprio più spaesato del mondo Esatto, esatto E ce la tentiamo Secondo me qualche tipo lì, sfigatello, che se ne sta là pronta a spararci Ci sarà lo stesso, però noi ci dobbiamo provare Dai, speriamo di no Se comunque ci posizioniamo bene, secondo me ci sono buone probabilità di riuscire Fer, sei fiduciato assolutamente perché è il primo tentativo Poi ci sarà il secondo, il terzo, il quarto, il quinto Non è una cosa esageratamente difficile Anche perché i veicoli si trovano in tante zone Allora, difficile no, è fortuna È fortuna Nel trovare un punto dove non c'è nessuno Magari oggi è la nostra giornata fortuna Qua c'è skill, perché adesso dobbiamo ammazzare tutti e rubare un veicolo Stile GTA Però poi Esatto Però poi dobbiamo riuscire ad avere fortuna Si può trasformare questo gioco Sai che non vedo nessuno? Eh, devi Cioè, Steph, eravamo, devi contare che siamo molto lontani dal taglio Quindi immaginavo non ci fosse nessuno Ho poi detto, magari sei come la foga delle zone nuove Dura ancora qualche giorno Esatto Nessuno vuole giocare a golf? Mi sembra strano No, evidentemente no Ma, ragazzi, è un bello sport Oh, meglio per noi, Steph No, certo Semplifica già in parte la challenge Ovviamente Anche se a me preoccupava molto di più l'altra cosa Però scusami Se noi riusciamo a farmare velocissimi la legna Non possiamo farlo qua Esatto, esatto Cioè, ma proprio Smetti di lutare dopo che hai due armi E inizi a fare legna Allora, un'arma, quindi va bene Allora, faccio legna nel mentre che luto Ok Puniamo le due cose Però cerchi di farlo molto veloce Sì Ok, ok Ho fucile a pompa Mi manca solo un fucile a salto Per, nel caso, contestare la gente che viene a rompere Ok, anch'io sono uguale a te Uguale a te Perfetto Continuo a fare legna Allora, all'incirca ci bastano 500 Non serve troppa legna Ok, ok No, infatti Perché poi l'altezza massima viene bloccata Il problema è che in questo posto La legna un po' scarseggia Già Già, 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 già Cioè, possiamo fare un po' di alberi Ma c'è davvero poca legna qui intorno Però dai, secondo me in due Rascimolarne 500 non è più così Beh, guarda, io ne ho già 150 Quindi sto andando abbastanza bene Lo so che sei scarsa Veloci Veloci Ok, io anche il fucile da salto Ma che ce la facciamo subito Due fucili a pompa Due shieldoni Anche perché, sai Io ho voglia di fare questo esperimento Ma ho anche voglia di vincermi un bel game Quindi, se riusciamo a farla all'inizio Inizio, inizio Poi ci concentriamo Andiamo con il nostro vicolo A prendere anche un altro po' di loot Dato che qua sembra un pochettino povero oggi Sì, sono d'accordo E spacchiamo tutti Allora, io arrivo a 300 Tu sei migliorata? Sì Ma quanto sei? 117 Stavo luttando una ceste, ok? Mi serviva il fucile d'assalto Non rompere, adesso vado a fare gli alberi Ok Cosa devo fare io? Cosa devo fare? Così mi devi sempre stressare Cosa devo... Oh mio Dio, farei Voglio vincere questo game Che hai trovato? Fucili a pompa nuovo Eh, bello Voglio vincere questo game Ok, allora Munizioni qua Io ho 400 Quindi, non lo so Ti direi che possiamo andare Allora, io ho 220 Ok Pensa a prendere un veicolo Ok Che credo che sei più vicino a tu a me Eh sì, è lì nel campo da tennis Ok Vai, 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 vai No, no, no Forse è il campo da tennis Io sto prendendo anche ora un altro po' di legna Però dovrei andare praticamente a 500 Mentre tu prendi il veicolo E poi raga, dai che ce la facciamo Dai che ce la facciamo subito Partiamo da qui in alto Non c'è davvero nessuno Ci avrebbero già sparato Giusto? Sto sentendo rumori Sono io che spacco a cancelli, Steph Eh, spaccati Che devo uscire Non si spacca, vabbè Ferre, muoviti Ho fatto un buchino qua Arrivo Ok No, no, ma hai guidato uno di sti robbi È davvero molto veloce Perché lo faccio sempre guidare a te E mi metto nel passeggero Quindi Allora Io farei di così Oh cavolo, Steph C'è una rampa Ferre, non distruggerci il veicolo È un po' maccato Ci serve Sì, un pochino Ok Andiamo anche verso fuori dalla mappa Più di così Non possiamo fare in nessun modo E Ferre, non so se ti conviene guidarlo Per salire, vero? Esatto Allora, no, voglio scendere Fammi scendere Ehi, basta Allora Aspetta, Steph, aspetta, aspetta Stai fermo? Che c'è? Sto andando avanti Oppure che cada in mare Fermo Ma che cosa? Fermo Mi ci sono messo davanti e sei fermato Allora, adesso vai tu Su e finisci di billare Io ne metto e porto il veicolo E se riesci Quando arrivi all'altezza massima Distruggi l'ultima rampa Crei un po' una piattaforma Perché ho bisogno di fare retromarcia Sì, Steph, ma non è il caso di farla da due Cioè ci stai così dritto dritto È un po' instabile quel veicolo Volevo risparmiare legna Eh, l'ho capito, ma Beh, non crede di avere problemi Il problema è la retromarcia Eh, appunto Quello è un problema Allora, così Un po' di ansia Quanto dovremmo andare ancora in alto? Poco, non manca molto Non manca molto Ok Eh, raga Se qualcuno fa esplodere adesso Chiediamo dritti in mare Se qualcuno fa esplodere adesso Dritti in mare Prima di no Ok Io sto ancora costruendo Ho notato Ho finito la legna Eh, totalmente Ok, l'ultimo Riesco a fare quindi solo una piattaforma Tieni Aspetta, 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 aspetta L'hai presa? Sì, a volo Devo distingere Però c'è Fere Sono in ansia Smetti Non mi metti Sposa un po' più indietro Un po' più indietro Altrimenti cadì Ce l'ho fatta Non rompere, Steph Sono a posto Perché devi impazzire così? Calmo Rilassati Guarda che bella piattaforma Ti stanno avendo i brividi Sali Andiamo Io voglio stare dietro Col fucile Vado? Sei pronto? Porca miseria, Steph Ok Fermi, sembriamo velocini Cavolo, Steph No Ok, ok Tutto a posto Possiamo rifarla Possiamo rifarla Possiamo rifarla Cavolo, hai iniziato a sbandare Da quanto stavi veloce Già, già Già, già, già Ok Hai iniziato a sgommare Te l'avevo detto, Steph Facciamola a due Invece tu sei tirchio Come sempre No, Steph Non in acqua Non in acqua Ok Non in acqua Calmi Calmi Con calma Chi va piano Ma sono e va lontano Allora, Steph C'ho anche da dire Che siamo lontanissimi Della zona Mi metti anche una rampa qui Per volare Ah, ok Girati, vai Aspetta Non me la faceva Mettere Niente Ma la fa fare vicino Sì, aspetta Fai un piano Eh, lì Lì Qui? Sì Ok E metti il piano, vai Ok A posto Sali Arrivo Ok, vai Ok Ah Stai dritto, Steph Mi raccomando Perché poi Siamo lontanissimi Quindi se vogliamo vincere Dobbiamo correre in zona, ok? Ok Si sta arrivando la zona Si sta chiudendo Sta arrivando Questa quella che è la corsa Per andare insieme alla zona adesso Eh, esatto Quindi retromarcia La zona che arriva È proprio film hollywoodiano Guardate, guardate Guardate La zona è arrivata Ah, prendiamo anche danno Prendiamo anche danno Ok Adesso ci arriva addosso Ciao zona Ok, vai Pronta? Sì Prontissima Film di Hollywood Oh mio Dio C'è la zona Andiamo a fare Dobbiamo correre La superiamo La superiamo La superiamo La facciamo Sì, ce la facciamo Non sbandare Non sbandare Ci sei, Steph Sei bravissimo Voliamo Voliamo Sì, vogliamo Quello è stato epico È stato fantastico Ok Dobbiamo continuare È stato bello Quanto siamo lontani La zona successiva? Un po' Però non in modo drastico Vabbè Bel po' Ecco, li vedo Oh, qui Steph Qui, 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 qui Che esce proprio dai magazzini Ok, ok Ti sparano quelli da destra Sì, mi sono un po' coperto Ovviamente E gli ho fatto danno Però ancora shield Ok 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 Queste sono le classiche situazioni In cui non trovi nessuno Poi li trovi tutta assieme Già Cavolo, sono difficili da prendere Hanno molta copertura Contanto che stanno coettando così Ah, c'è gente bassissima lì in mezzo Ah, sì Gli ho colpiti pure io Quindi sono tutti bassi Ma questo se sarà mosso È fermo lì Oh Che casino c'è lì in mezzo Bassissima Cioè forse sono tre team Sì, quattro Uno l'ho ucciso Ok Quindi forse ci sono Io ho pochi colpi Non è che posso stare Gli altri due vivi Quanti colpi hai? 76 Quindi non è che posso stare Spara troppo Per distruggere le strutture Ok Allora, quello poi qui sopra A me sembra che se ne sia andato Comunque non vedo più movimento Quando l'ho mai neanche visto sbucare Quindi rimangono solo quelli là Che però Stanno rimanendo lì A billare A curarsi eccetera eccetera E c'è la zona Quindi io ti direi Forse conviene andare Un pochettino verso la zona Ci sistemiamo E poi alla vigliacca Li rispariamo Ci sta a buon piano Quando sei povero Ti devi arrangiare Con quello che sia Ti devi comportare da povero Esatto Quindi ci sta Allora, la rottura di scatole Che dobbiamo passare Tra tilted e loot lake E lago E lago Che quelle sono sempre zone affollate Già Non avere neanche il cechino Non è stato comodo Infatti questo fight Avremmo potuto fare di meglio Ed è un peccato Eh, neanche io Niente a distanza purtroppo Quindi Vabbè Vabbè, va bene Va bene, va bene Per ora siamo in gioco Quindi Va comunque bene Questi ci riprendiamo Nel caso in cui trovo un cechino In tempo arriviamo Ok Mi preoccupa che per arrivare in tempo Però ci esponiamo A qualche altro player Vabbè, può essere Che in questa zona Sai, è molto probabile Non credo che potremmo mai più Pensare a quelli che abbiamo dietro Perché nemmeno Succederanno altri casini Ci sta Sì, lo penso anch'io Lo penso anch'io Allora, vediamo un pochettino Zona strategica dove andare È difficile Tra Pinacoli e lago Non trovo molto Nella zona strattata Beh, vorrei andare alla destra Di Loot Lake Però sai, ci vorrà anche tempo Sì, esatto Quindi puntiamo lì Però ci vorrà tempo Ho visto colpi in aria Dove? In altissimo Ok Come se qualcuno forse sparasse Verso qualcuno Che era nella montagna Eh, però li sento Li sento Io invece non li sento Ma li ho visti Io li ho sentiti Un certo momento da sinistra Quindi verso Pinacoli Ok Perlomeno Ho rivisto colpi Ho rivisto colpi Ho rivisto colpi Qualcuno sta sparando Qualcuno che sta sopra la montagna Ok Quando sono colpi così È sempre quello Quindi abbastanza vicini Vedi, sì Vedo delle scale Comunque per salire sulla montagna Quella tra 330 e 345 E sicuramente qualcuno Li sta sparando Sì, sì, sì Ok Credo che abbiano Prendato giù uno Sniperandolo Potrebbe essere la fine anche nostra Può essere Vedi, vedi, vedi Cerrisone Sì Problema Eh, ma è sempre così Sì, ora li vedo chiaramente Che stanno tutti Eh Che facciamo? Non abbiamo cechino Non abbiamo trampolini Per salire Oh, aiuto Ogni sparato Ho sempre fuori Che sta per me Guarda Questi sono quelli di prima Sì Però stiamo ovviamente Facendo rumore Sì, ma non dovremmo avere Problemi Dove sono finiti? Beh, sono fuori dalla zona Che vanno verso 60 Ma secondo me Potrebbero morire anche prima Eh, può essere Sì Non li vedo Cioè, uno ha tolto 20 HP Sono dietro la roccia Quindi aveva già HP E li stava perdendo C'è gente a 15 gradi Però sulla costa Ok Eccolo Ho tolto altri 20 di vita Mi tocca Stalire un po' in alto Farmi una costruzione Qua al volo Ok, uno è dentro Ok, sento rumori Di quei cavolo Di Eccoli qua Dove saranno? Dici che ci vengono addosso? Eh, non lo so Perché si sentono Sempre molto vicini Anche quando non lo sono Lo so Allora, praticamente C'è un team A 30 gradi Che sta sparando Il team che stavamo sparando noi Che è bassissimo E c'è gente Alla Watchtower Li vedo, vedo, vedo Gente sopra di noi Nella montagna Beh, siamo morti Al 90% Al 95 90 mi sembra troppo Cioè quelli che corrono Da una parte all'altra Cercheranno di restare l'amico? Sono in una situazione del genere Cavolo, li avevo mandati Bassissimi entrambi Mi hanno rubato le kill Nel caso Che ingiustizia Io sto puntando Quelli della torre Però aspetta Se sta arrestando l'amico Io gli ho tolto 40 di vita Sai com'è? No, 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 no Non vedetemi Non vedetemi Vanno sopra la montagna Mi stai abbandonando Senza dirmi nulla? Sì, ma da un sacco di tempo Ah, grazie, 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 grazie Dove andate? Io ho tolto 40 di vita Anche l'altro che stava in vita Ok, quelli sono andati Sopra quella montagna Perfetto Ok Io sto pensando di salire Su questa torre, Ferre Riesci a coprirmi? Spara la torre Questa qua dove sto lasciando io? Steph, sto finendo i colpi Ne ho 40 Cioè non ti posso dare Troppo una mano Cioè se mi avvicino Ho Ucciso? Ok Ti dicevo se mi avvicino Ho lanciagranato Il problema è che penso Che stiano cercando Di sparare pure a me Quindi devo saltare molto Correre E cercare di raggiungerti Sei un pazzo Ma ti sembra che Devi andare lì da solo? Lo so Scusami Cioè mi hai avvisato Io stavo ancora sparando Quando il 95% È loose Devi fare cose folli Ok Morire prima Esatto 9 volte su 10 Esatto Vabbè amico mio Ma te c'hai sempre 10 HP e non muori? Ciao mio caro Steph Non so che fare qua C'è una loot lake Nella villa Ok aspetta che mi copro Bene qua alle spalle Allora uno Ho tolto 60 di shield Eh cavolo Sto finendo davvero Tanti colpi Io ne ho Però ci dobbiamo incontrare Quello Gli ho tolto 20 vita Quindi non ha shield A un altro Ho tolto tipo 60 vita Non riesco a prendere le kill Eh sì È tosta Sono molto lontani 20 di vita Vabbè ma muori Qualcuno Dateci kill Niente Li vedi? No sì Steph Li vedo Ma non posso Sprecare tutti questi colpi E distruggere le strutture Purtroppo Cioè non posso 30 colpi Ah se vieni colpito Vi posso dare un po' Però Non so che fare Perché il mio scopo era Luttare qualcuno E tutto abbiamo potuto fare Tranne che luttare qualcuno Esatto Quindi sì Tanti bei danni Qualche quasi kill Però Poi sulla carta Non abbiamo loot Ok Sono qua Steph Sono qua Sono qua Sono qua Montagne Se non chiude fuori dalle montagne Abbiamo perso Ha chiuso fuori dalle montagne Quindi abbiamo qualche chance Che fortuna L'unica fortuna di oggi Beh ha chiuso Gente di fronte a noi Ha chiuso per tre quarti sul lago Quindi non è che sia bellissimo Come taglio Eh dove Di fronte a noi A sud Sono lì a loot lake Entrambi con solo HP E praticamente A meno che non abbiano No ma quelli di prima Sì Eh sì che li vedo Certo lo so che sono là Loro se ne devono andare da lì Sono fuori zona So Eh allora aspettiamo che si muovano Ecco 20 di vita 20 di vita Raga è mortale No sì sto iniziando a pensare Steph Che sei mortale Vero? Ah ah È l'unica spiegazione Quindi sia C'è un altro alla fabbrica Non credo sia suo amico Già Quelle erano le nostre costruzioni Due volte 20 di shield Ha un tipo totalmente nuovo Giusto per salutarlo Lo vedo Quella era la nostra costruzione Si è impossessato delle nostre Raga io sto abbassando la vita Di tutti i player del gioco Va bene Poi qualcun altro si fa le kill E loot Anche quello è un modo dai Di perdere Sì di perdere E rimanere senza loot Fino alla fine Steph no? Forse senza colpi 20 di shield 20 di vita No raga Non è possibile 20 di shield Due volte 20 di shield Ma ce la facciamo A parte che stiamo facendo arrabbiare Non so quanti player Tantissimi Cavolo Vorrei avere un lanciarazzi Al posto di lanciagranate Perché Sarebbe stato molto più semplice 41 di shield Va bene Beh guarda Quanto meno ne stanno uscendo Tutti senza shield Il problema è che Noi la stiamo finendo Senza colpi Esatto Non è una bella cosa Io comunque ho anche due medikit Quindi cura Già ne abbiamo Il problema 20 di vita Vabbè Steph Sono una presa in giro Dove li sparano? Dove li sparano? Perché non sei stato tu Quest'ultimo colpo? Dalla destra In qualche montagnone Porca miseria Sono imprendibili Dove siete ora? Aia Dietro di noi Dove dietro? Totalmente Che vigliacchi Cioè Fermo a mirare Capito dove? Ah sei vivo Pensavo che avessero atterrato Scusa No non ho capito dove Ah qui dietro Ok Questo albero fa schifo Togliti Ok Vigliacchissimi Ok Aspetta Qua ti rispondo Caro mio Vai 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 Tira granate Tira Una terra Esatto L'ho preso con la granata Per un altro team alla sinistra Ho fatto un headshot Mi tirano granate Steph Devi pensare al team di sinistra Mi sto tirando granate Così li interrompo Una terra Steph Dell'altro team Che ha lasciato questi di fronte Ok Da dove ti sparano? Mi stanno distruggendo tutto Mi stanno distruggendo tutto Qui dalla sinistra Corre Bravi Bravi Per il due contro uno Due contro Oh mio dio Oh bello Gli sfigati come noi Alla fine ce la fanno Luttiamo però Perché lo devi dire? Non rompere È una frase detta Con il cuore In un momento di felicità E adesso mi sniperano a me E poi perdiamo Esatto va bene Va bene Ok Sì Ti sta bene Succede 3 2 1 Bam Tieni di roba Che bella la roba di questi qua Allora lancia granate anche voi Che però io ho già Un fucile d'assalto decente Riesco a trovarlo Sai chi secondo me è vivo? Il famoso venti di vita Che secondo me è ancora qua Sì sono quasi sicuro anche io Steph non avevano un bel assalto Cioè mi ritrovo ancora Con le mie 16 bianco Ma ti sembra E' quello verde Va bene Ma io c'è sfigatissima Totalmente Beh quello verde è molto meglio Dov'è? Allora stiamo vicino Alla nuova zona Guarda meno male Che ho potuto sfruttarmi bene Il mio lancia granate alla fine Infatti gli ho Stabilizzati Che c'è? Smetti di chiacchierare Ok E comprendi Ok Dov'è? Tieniti i miei razzi Ok Ti servono colpi No 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 sono a posto Tutto a posto Allora presumo che non posso essere In nessuna montagna E' dentro qualche costruzione Che è già stata fatta Oppure dietro qualche albero Esatto L'unica cosa Che bisogna stare attenti E' non prenderci Una sniperata gratis Importantissima sta roba E' la cosa più importante Quindi salta tanto Builla tanto a caso Vabbè sto usando le tue E ora non c'è molto spazio Eccolo Eccolo L'ho preso Yeah Bello 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 Dai siamo stati E' stato un game strano Non ti posso dire Siamo stati bravi Perché è stato davvero strano A livello di 20 HP tolti Siamo stati bravissimi A livello di kill meno Ci sta Ci sta Bel game Voglio vedere quanti danni ho fatto Sono curioso Damage to player 1100 Che per 4 kill Sono pochissimi raga Davvero davvero pochi Comunque Ci fermiamo così Siamo riusciti Sia a testare quello che volevamo Sia a vincerci un game Quindi soddisfatti al 100% Game particolare Ma comunque piacevole Qua sotto come sempre Noi video Iscriviti al canale Campanellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao